E' stato eletto all'unanimità dalla direzione su proposta dell'ufficio di presidenza. Il raffadalese Piero Giglione è il nuovo segretario regionale della CNA Sicilia. Succede a Mario Filippello che lascia l'incarico per sopraggiunti limiti di età. La votazione ieri sera a Palermo nella sede della Confederazione. Queste le prime parole di Giglione che resta momentaneamente anche alla guida della CNA Grigento. Porto entusiasmo, passione, dinamicità e tanta tantissima voglia di fare, ha detto nel suo intervento, da mettere al servizio dell'organizzazione per promuovere e sostenere la crescita dell'artigianato delle piccole e medie imprese. Giglione arriva a questo prestigioso incarico potendo contare su un ampio e qualificato bagaglio di esperienza accompagnato da apprezzati riconoscimenti. La CNA per me è come una seconda famiglia spiegato all'interno della quale mi sono sempre speso con spirito di sacrificio, dedizione, prestando cura ai rapporti umani e istituzionali nel rispetto dei ruoli e nel segno della lealtà e dell'efficienza. In un momento come quello attuale ha sottolineato il neosegretario regionale serve un colpo di reni decisivo per consentire al tessuto produttivo siciliano di guardare nuovamente con fiducia al futuro. Definiti gli assetti e consumati passaggi formali, siamo pronti per avviare una nuova fase in Sicilia. Il presidente regionale della CNA, Nello Battiato, ha annunciato l'avvio di una stagione di lavoro e di impegno. Un segretario giovane, preparato, intraprendente e con tante idee, come Piero Giglione ha osservato, significa poter lavorare con slancio e in prospettiva. Non sarà facile sostituirlo, ma siamo orgogliosi che per la prima volta nella lunga storia della CNA un agrigentino arrivi ai massimi vertici regionali. Sono invece le parole del presidente provinciale della Confederazione, Mim Morandisi. Quello di ieri, dice, è stato un grande giorno per tutti noi, un premio al lavoro svolto quotidianamente dalla CNA Grigento nell'interesse delle categorie produttive. Ed è stato ovviamente il giusto e meritato riconoscimento all'attenta e lungimirante guida di Piero, con il quale mi legano anche rapporti di profonda stima e di fraterna amicizia. La sua presenza, il suo impegno, la sua competenza hanno rappresentato un lucido faro per l'intera macchina amministrativa e per tutto il segmento produttivo. Qualità e valori che certamente saprà mettere ora al servizio della CNA dell'Isola, conclude Randisi, affinché a livello regionale si possano delineare nuove e positive dinamiche in termini di attività gestionale e di coordinamento, ma anche nelle interlocuzioni con le istituzioni politiche e con le pubbliche amministrazioni nei rapporti con gli altri enti ed organismi.